qui dove si prende il fresco seduti sulle sedi a sdraio guardando questo bellissimo parco qui è dove si incontrano i gatti ancora gatti tanti gatti qui è dove c'è questa libreria con mobili vecchi e polverosi e tanti libri vecchi e polverosi bellissimi libri 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 ovunque alla scrivania ho incontrato il gatto scrittore che stava omaggiando jack nicholson poi ho deciso di fare una pausa perché era molto stanco aveva bisogno di un po di coccole io intanto continuavo a toccare sfogliare sfogliare toccare tutti i libri che mi capitavano sotto mano e dentro un armadio la più bella maglietta che io abbia mai visto al piano di sopra c'erano queste stanze in cui c'erano le esposizioni di tutti i vari artisti qui dove c'è il cortile dove c'è il chiosco per bere le birre e altre cose e i concerti io stavo fotografando il mio commercialista mia sorella si è comprata questa bellissima fascia per capelli e non abbiamo perso l'occasione per fare come sempre le sceme grazie 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 grazie